Hola io sono Marcus Crohn, signore e signori bentornati nella Space Astronomy Nell'ultima puntata abbiamo fatto una vecchia, ma sempre efficace, farm mortacci quanti Mortacci, no sono caduto dentro regà e ho finito questo, ah no meno male che posso ricaricarlo Uh, mamma mia, adesso sfuggivano tutte quattro e guardate come muoiono Forse ho esagerato, cioè forse ho ottenuto troppe mucche di qua Di qua ho fatto un orto in modo che qui sia sempre pieno di wheat Sì, forse ho esagerato, ma chi se ne frega, meglio esagerare che deficere E guardate qui quanta pelle si sta andando accumulando, ma oggi non facciamo quello che volevo fare l'altra volta Ne facciamo un'altra cosa, perché è bello spaziare nella Space Astronomy Ho messo di qua a cuocere il basalto, giusto? Si chiama basalto? No, è l'Abyssal Rock Con... cioè l'ho messo a cuocere, pensavo che mi facesse i brick Fittered, vediamo un po' Ah, uno a uno il rapporto, fantastico, buono E poi torna anche indietro? Vediamo un po' Vediamo un po' Sì, torna indietro... No, aspetta, questi sono i brick C'è qualcosa che non capisco Uh, no, però preferisco questi E adesso? Come faccio a farli tornare indietro? Perché dalla lei non si capisce Mazza se son durio Vediamo No Ti odio profondamente Ok, allora, i brick li utilizzeremo un giorno che non piove tanto Prendiamo l'Abyssal Stone e la mettiamo qui Ah no, questa è cotta Ah, sono un rincoglionito ragazzi Sono un... no, aspetta, questa è da cuocere È da cuocere, è da cuocere, è da cuocere Questa qui, e ho fatto anche la stone normale Stone che però invece dobbiamo fare così Perché oggi voglio fare una struttura Per triplicare Gli ore Ok Succederà spesso che faremo strutture sempre più grandi Per moltiplicare ancora di più gli ore che ci servono Che abbiamo Quindi prima di riattivare il cuore che adesso è fermo Voglio fare la struttura Dove poterlo Dove poter realizzare la triplicazione degli ore Direi che questa zona va più che bene Una bella fabbricuzza Io avevo fatto la promessa di farmi una pala E come al solito Me la son dimenticata Sono un babbeoid Visto che Costruire non è il mio forte E ci metterei davvero davvero tanto A fare una sola puntata Per fare una casina Facciamo soltanto La parte Come si dice La facciata principale E poi ci diamo Al farming selvaggio Io credo che Questa struttura vada bene Cioè questa piazzola vada bene Magari un po' la allarghiamo Allora 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 Voglio 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 mettere subitissimamente qui una crafting table Per fare gli scalini di stone Ne facciamo un pochino di più E per fare le slab di stone Ne facciamo un pochettino Io non vorrei finire le quantità Ma spero di riuscire a fare quello che voglio fare Allora Ovviamente sto copiando come uno schifoso Cioè io ve lo dico Non so affatto A costruire Quindi sto copiando Non vi preoccupate Sarà tutto molto bello Anzi zoomo pure Mi permetto di zoomare Spero che il risultato venga carino In realtà non dovrebbe essere troppo difficile Perché è così Ta ta Poi mattone Mattone Vedi già ho sbagliato Già ho sui incredibile Mattone Mattone Ah no Aspetta 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 Non è così difficile Non è così facile Quanto sembrerebbe Marco Scroo Non è così facile Abbiamo Questo E poi qui c'è il mattone Sembrava facile Hanno mentito ragazzi Hanno mentito Vabbè io la faccio ancora più facile Noi dobbiamo fare Dei buchetti Che cazzo era Ah oddio Il mio fuoco mi ha spaventato Dei buchetti così E qui dentro voglio metterci Questi Mattoni Ok Però Ora che ci penso Questi buchetti Sono 4x4 Non sono 3x3 Lull Lullissimo Super lull Vedi bam Bam Olè Sali di uno La cosa carina è che qui dentro Qui dietro C'è questo buchetto qua Sale e chiude Ok questa qui dovrebbe essere una parete Una Credo Una sorta di Di parete Che si incassa Qui E qui noi mettiamo Al contrario però Vediamo se ci riesco o non ci riesco Sì Quindi forse Plausibilmente Questo è così Vediamo Plausibilmente Sì Ok Carino Sembra Sembra carino Non lo so Così così E così Questa qui Dovrebbe essere Una facciata Credo Signori miei Questa è la facciata Ci ho messo 20 minuti a farla Vero 20 minuti È bella Cattiva Come mi sono immaginato Perché nella versione originale Che sto scopiazzando C'era Il mattone Qui E invece qui c'è Il nero Che sta di Fabricozza Super farmosa Schifosa Smagabra Dove le persone Vengono uccise No vabbè Un po' alla Hey Bodicei Chi se lo ricorda Hey Bodicei Appalissimo Hey Seguimi Seguimi Ed ecco qua La facciata Sopra c'è un altro piano Più piccolo E poi la faremo O rettangolare O quadrata Ma adesso È venuto il momento Di duplicare Anzi di triplicare Però io voglio Assolutamente Farmi una pala Perché che cazzo Ma com'è possibile Che io non ho una pala Posso avere una pala Shower No Shovel Shovel Me la posso fare di copper Che almeno Non devo fare Usare la tinker Yes Ok copper E ti prego Dammi uno stick Uno stick Ecco qua Et voilà Et voilà Oh Pala di copper Visto che sono morto qui Perché mi è finito il jetpack Mentre costruivo Nope Ci abbiamo un waypoint Che quasi 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 Metterei qui E scriverei Fabricozza Sbagliatissimo Ho scritto in italiano Incorreggibile Dunque Non ho portato con me Il legno Quindi niente porta Per oggi Di qua ovviamente L'effetto Lascia desiderare Poi lo riempirò Tutto quanto Anche perché Devo mettermi a farmare Cioè devo iniziare a dire Allora il basalto Va a cuocersi In una fornace sua La stone La cobblestone Va a cuocersi In una fornace sua E tutto così Probabilmente Ci faremo Una puntata Dove farò una zona Magari Suggeritemi qualcosa Non una fabbrica Ma un magazzino Ecco Ci potrebbe stare Dove Fare tutte queste cose Perché ci serve Tanto glass Ci serve tanta stone E così via Allora Perché io sto più attento Di qua Quando di qua C'ho un sacco di roba A disposizione Di spazio a disposizione Non lo sapremo mai Ma va bene Va bene Ho detto Va bene Lo stesso Allora Signori e signori A noi ci serve E andiamo con Molto 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 Ordine Un Electrous Separator Da mettere Dentro 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 Purification Chamber Se non sbaglio Altretti era L'enrichment Ma adesso lo scopriremo Insieme Enrichment Oh si sta facendo notte Vabbè regà Io lascio Lascio in pacifica Sti cazzi Costruiamo E' bello costruire Torcina Allora Che cosa fa L'electronic Separator Separa dall'acqua L'idrogeno E l'ossigeno Questo in questo caso Già c'ha Perfetto Vediamo un po' se è questo No non era questo Vieni qua Eri tu Ok Perché per il Purification chamber Serve l'ossigeno E' una componente fondamentale Voi non dovete Da discute Va bene Va bene Però a questo ciccio Serve l'acqua Per separare l'idrogeno L'ossigeno Ovviamente D'accordo Allora Mettiamo 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 Dei tubi 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 Oddio Non ho fatto i tubi C'ho la mente Incasinata ragazzi Mettiamo I nostri tubercoli Qua sotto Tela E voilà E ho detto E voilà E qui Metteremo il nostro Amico Acqua e su accumulator Però prima dobbiamo Metterci tutto intorno L'acqua Per chi non lo sapeste Lo dico così Tanto per L'acqua e su accumulator Accumula Una percentuale d'acqua In base a quanto I blocchi lo circondano Di acqua E la La distribuisce Prima di niente Acqua infinita Voilà Adesso lui dovrebbe Dire Si sta riempendo E riempie questo Di acqua Fantastico Adesso l'energia scende Perché ovviamente Non c'è più una fonte di energia Avevo fatto già Un test Se la cosa funzionava Ok Questo qui Dobbiamo chiuderlo Io adesso lo chiudo Momentaneamente Con Gli stone bricks Ma poi vedremo Il da farsi Ora Ci serve Elettricità E per ora Stiamo usando Il metodo bellissimo Delle wind turbine Abbiamo i basic Eccoli qua Io direi di fare Uno Due Poi qui ci mettiamo Gli altri Ah Stupido cactus No C'è lo slugge qui Oh mio dio Oh mio dio E Per ora Per ora Per ora Soltanto per ora Salire 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 Fare così E poi Costatare Che me lo metti Al contrario Vediamo se con La vrench Me lo giri Sì Perfetto Ok Quello sta producendo Elettricità Questa Qui l'elettricità Sta arrivando Lui Pompa l'idrogeno E l'idrogeno Invece lo facciamo Dampare Cioè esce Guardate Vedete L'idrogeno Quest'altro invece Va qui Quando si sarà Tutto riempito Beh ci puzzi Finirà Di consumare Elettricità Iron Il nostro Amico Iron Perché fare banalmente Una cosa Tutta accozzata No Facciamo una struttura Una fabbrica Bellissimo Magari sopra ci potrei mettere Un sacco di ventilatori O il reattore nucleare Allora Se noi mettiamo dentro Questo qui Lui Utilizza un botto D'ossigeno Come potete vedere Bim 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 Guardate quanto sta scendendo Però Però Attenzione Ci da Tre Iron Clamp Facciamo Usuario Un clamp Nel macerator Ci da una dirty dust Quindi nel crusher Che è l'equivalente Della Mechanism Questi qui L'ho fatti tutti Ma come potete vedere In realtà L'unica cosa complicata Sono questi Che si fanno In questa maniera Di un facile Incredibile Quindi Nel crusher E tra l'altro Ce li mette da solo Guardate Adesso si Gli dovevo dire Auto Questo qui Auto Eject Guardate Il crusher Signori Una dirty Iron dust Tasto Uh Dirti iron dust Unriching chamber Usa energia Per fare un iron dust Quindi Unriching chamber Perfetto Lo sta fanno Signori Alla fine Lo smeltiamo Qui togliamo tutto Andiamo a mettere Una cestola E questo impianto Così com'è Da solo Triplica Gli Iron Cioè Gli ore Ed è fantastico Perché La mecanism Ci permette Uno Di fare Dei tir Maggiori Di questi Macchinari Che sono Più veloce Ci possono avere Gli upgrade E soprattutto Hanno un massimo Di 8 slot Quindi una figata Incredibile In più Ci sono altri Due metodi Che ancora Non possiamo Permetterci Ma presto Ci permetteremo Per quintuplicare I minerali E questa cosa È una cosa Fantastica Ci dovremmo fare Un sacco di giri Tutti intorno Per permetterci Di avere tutte cose Ma davvero Davvero È una figata Quindi questa L'inizio Della fabbricozza Della moltiplicazione Degli ore Dei diamanti Perché Dei diamanti Io sono Marcus Grondo Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che la costruzioncina Non vi dispiaccia Una volta Ultimata Io ovviamente Mi sono sbagliato L'ho fatto tutto a filo Sono un cretino E noi ci vediamo Alla prossima puntata Della Space Astronomy Bella regà Ciao